Credi che sarà mai brava come te? Quello che ascolti non è così importante. Lo devi sentire. Signor Gustafsson, ha già deciso che cosa suoneremo? Che cosa sa del primo concerto di Katrin? Vuole eseguire quella partitura per i bambini. Era quella partitura che stava cercando di bruciare quando è stata avvolta dalle fiamme. Questo è tutto quello che è rimasto, ma io la sento nella mia testa. Credo di poterla finire. Nel Medioevo si credeva che la musica mandasse le persone in trans e le facesse impazzire. L'ho sentita nella mia testa. Penso che questa cosa mi stia usando per finire la partitura. Che cosa succede se la finisci? Se la ascolti, lui ti ha già catturato.